Il libro racconta di un incontro e di un dialogo. Sono 21 ricette e 21 opere d'arte che raccontano la creatività mia e di Mauro Uliassi. Come il nostro territorio e le Marche hanno influenzato il suo fare e del mio operare. E' evidente come la nostra terra ha modificato la nostra creatività ed è centrale la nostra scelta di vita. Mauro ha deciso di vivere a Senigaglia e io ho deciso di vivere a Pergola. In questo caso, come sottolinea in maniera nitida chi apre Massimiliano Tonelli il libro, la provincia che non diviene più provincia ma in questo caso è centro, centro della cucina e centro dell'arte diventano capitali e luoghi propulsori di quella che è la creatività in assoluto. Il libro è un cammino molto forte, un cammino molto intenso che racconta di un dialogo, un dialogo lungo appunto tre anni, supera la pandemia per arrivare ad oggi. Questa è la prima presentazione che facciamo. Era, come dire, importante farla nelle Marche e per noi è un onore essere qui perché in qualche modo, come dire, Pesaro rappresenta la cultura del nostro territorio tra Arossini e la pescheria. Quindi non ci poteva essere luogo migliore. Diciamo che siamo molto felici e molto onorati. È un regalo essere qui ed è un regalo il libro. Il libro è edito da Mare Territore ed è davvero un racconto sulla linea del mare. Si vede anche dalla costina dal blu che emerge. La grafica racconta davvero tutto quello che è il nostro punto di partenza per poi allungarsi fino al cielo. È un gioco che si sviluppa tra il colore del mare e il colore del cielo dove in mezzo ci sta l'opera d'arte. È stata una gran bella esperienza. Già in passato avevo collaborato in altre situazioni d'arte, con la musica e anche di arte contemporanea. Creare un libro insieme a Giovanni è stata una bellissima esperienza perché marchigiano come me, lui è un marchigiano di terra, noi siamo marchigiani di mare e anche se siamo marchigiani di mare, ci arriviamo sulla costa, abbiamo delle foto, delle profondi radici contadine. Quindi è stato facile dialogare e creare questo libro dove le nostre ricette in qualche modo potevano dialogare, conversare con l'arte di Giovanni.